20 anni fa, in questi giorni, qui a Genova, è successo qualche cosa per cui probabilmente sono cambiate per sempre una serie di rapporti tra cittadino e stati sovrani. Nei giorni del G8 di 20 anni fa io ero alla Capraia, apparentemente non ho nulla a che vedere con quei giorni, non sono un reduce, non vengo da quell'esperienza diretta, però sono direttore di uno dei più importanti teatri italiani. Il Teatro Documento è un genere teatrale che è alla base di quello che è la storia di questo teatro, il Teatro Nazionale di Genova. Noi non possiamo far finta che, così come non fecero finta precedentemente Squarzine Chiesa, che la storia recente non abbia un diretto collegamento con il nostro presente. Il nostro teatro, il teatro in generale e il teatro pubblico, non può non essere un teatro politico, dove per politico non si intende sono figlio di quella parte o sono figlio di quell'altra. Ecco, quello che noi scopriamo attraverso questi marker, questi QR code che andiamo a individuare utilizzando proprio il nostro telefonino. Ci siamo ispirati tantissimo alla Casa della Memoria di Santiago del Cile, che per quanto mi riguarda è stata l'esperienza civile forse più straordinaria che ho vissuto nella mia vita. A 70 anni da quello che era più o meno la creazione del Teatro Documento, mi sento di dire che quel teatro oggi non può che essere diverso. Probabilmente non è teatro, questo non è teatro, è un'azione teatrale, è un'installazione teatrale e abbiamo una società che ha bisogno invece di ritrovarsi con azioni concrete di memoria comune, condivisa, non più divisiva. Quest'installazione però non sostituisce affatto quello che è il teatro. Questa è l'occasione per poter approfondire temi legati proprio ai fatti del G8 di vent'anni fa. Ma poi c'è il teatro e il teatro noi lo creiamo soprattutto con un'inaugurazione che speriamo possa diventare un vero evento. Ma su queste tavole di palcoscenico noi li rappresenteremo tutti. Saranno maratone di teatro, d'arte che ci aiuteranno ancora di più a commuoverci, a divertirci e soprattutto a creare una riflessione profonda sul nostro tempo. L'arte fa questo, l'arte per migliorare la nostra vita la deve anche un pochino prendere e sbudellare, dobbiamo entrare dentro a vedere come funzioniamo. Grazie a tutti.